Colonnello, ha compiuto un piccolo miracolo. Congratulazioni, eh? Sì, signore. Dovresti sputarmi in faccia. Scusi, colonnello? Siete immondizia. Per noi siete immondizia. Per noi chi? L'Occidente, le superpotenze, tutto quello in cui credi, Paul. Per loro siete immondizia, siete sterco. Non avete valore. Temo di non capire quello che sta dicendo, signore. Andiamo, non mi prendere per il culo, Paul. Sei il più sveglio qui dentro. Te li giostri tutti quanti come vuoi. Potrebbe essere il tuo, questo hotel, se non fosse per una cosa. Sei nero. Non sei neanche un negro. Sei un africano. Non resteranno, Paul. Non fermeranno la carneficina.